Hashtag Floridia Migliore è il titolo del progetto politico avviato dall'avvocato Lino Romano, candidato a sindaco del comune di Floridia. Romano ha sciolto le riserve e ha deciso di presentare la propria candidatura con il sostegno del movimento Orizzonte Etico. La mia Floridia sarebbe una Floridia migliore, una Floridia non degradata come quella che viviamo in questo 2017, una Floridia più bella, con più verde, con più aspettative per i giovani, una Floridia veramente da vivere, non come questa Floridia. Romano si è battuto per realizzare l'ampliamento della strada statale 124. Dopo la grande vittoria della statale 124 il mio obiettivo è creare altre infrastrutture per Floridia che migliorino la qualità della vita di Floridia. Mi batterò affinché si crei più verde pubblico, affinché le strade siano più pulite, affinché le fognature siano più odorose. L'avvocato Romano non le manda a dire e riferisce il suo giudizio critico nei confronti dell'attuale amministrazione comunale. L'amministrazione uscente non ha saputo intercettare i bisogni, le esigenze, le necessità, i sogni e le speranze della gente. Non ha saputo leggere nei cuori e nelle loro aspettative. Non ha saputo assolvere al compito che la legge gli demandava di amministrare bene la città. Grazie a tutti.